Sì, ma il Gesù è la libera! Una Pasqua di rinascita e di ripresa, quella vissuta nella domenica appena trascorsa. Tanti centri siciliani in cui si è rinnovato il tradizionale incontro tra il Cristo risorto e la Madonna. Ognuno con una tradizione differente, come a Modica, dove si assiste al bacio di mezzogiorno, o nei piccoli comuni della provincia di Messina, come Caronia, Motta d'Affermo e Reitano. Le vie di pettineo affollate dai cittadini e dai tanti fedeli ritornati per partecipare all'emozionante processione nel giorno di Pasqua. Gesù trionfale con il vessillo della resurrezione e la Madonna portati a spalla attraversano le vie cittadine in due percorsi differenti, in una tradizione finalmente rispettata dopo due anni di stop e che la comunità ha vissuto con grande intensità. In piazza Sant'Oliva, al suono della campanella del parroco Giuseppe Capizzi, Gesù e Maria in un abbraccio quasi sfiorato e quest'anno attraversato da un raggio di sole nell'attimo esatto, a sottolinearne ancora di più l'emozione del tempo vissuto e l'intensità di un momento che ha il sapore della speranza. Commozione e devozione anche nella processione di Pasqua a Nicosia. Poco prima di mezzogiorno in tanti si sono radunati per partecipare, dopo due anni, al tradizionale incontro, la piazza principale dell'antica città e un tripudio di colori e di vessilli delle tante confraternite ancora presenti e operanti. Dopo due anni la Madonna addolorata fa il suo ingresso in piazza Garibaldi e subito dopo viene preparata all'incontro con il figlio risorto. Tre inchini e i portanti avvicinano Gesù risorto alla madre e così l'uno accanto all'altro proseguono per le vie della città dove il suono dei tamburi delle confraternite scandisce ogni attimo. Dal balcone del palazzo municipale il vescovo della diocesi di Nicosia, Salvatore Muratore, come da tradizione ha pronunciato il suo discorso alla comunità. Poi la benedizione che ha concluso la cerimonia. Lunghi applausi anche qui e gioia nel cuore. Grazie.